Ha creato un impero dal nulla. Signore Ele, è un onore. L'uomo che ha costruito New York. Lo avrà fatto per soddisfare il naturale bisogno di immortalità. Ora che è arrivato il suo momento, si sente immortale. Offriamo alle grandi menti dell'umanità più tempo per realizzare il loro potenziale. Le garantiamo un corpo sano, completamente nuovo. È vivo. È un involucro. Se lo facciamo non possiamo più tornare indietro. La sua vecchia vita è finita. Ne inizia una nuova. Che cos'è? Serve a fermarle il cuore. Cosa? Serve a fermarle il cuore. Come si sente? Pensavo che avrei puzzato di cadavere. Un po' di umorismo. Bene. Si rilassi e si diverta. In fondo alla sua età, se lo hai guadagnato. And you can have all of this. After all the hard work, you can have all of this. Money in the cars close, you can have all of this. Fall up in the best clubs, you can have all the women. Stai bene? Sì, è solo che non vedevo un corpo così da quasi 52 anni. Non è stata un'allucinazione. L'immortalità ha alcuni effetti collaterali. C'è nessuno? Tu eri morto. Non c'è né scienza né progresso senza sacrificio. Che cosa abbiamo fatto? Deve annientare ciò che c'era in quel corpo. Non ha scelta. No! Non lo farò! Non so più chi sono. Sento che sto già svanendo. Senza di me la sua mente regredirà. E sappiamo chi prenderà il sopravvento. Sono l'unica persona che può impedirle di scomparire.